Provengono da vari stati gli sportivi che oggi hanno solcato le rive del Bacchiglione per la gara di voga alla Veneta. 17 gli equipaggi in imbarcazioni più o meno grandi che sono partite dalla Rarinantes di Padova facendo tappa alla Canottiri per poi giungere al ponte di Tencarola. Anche quest'anno l'evento è stato organizzato dal Centro Studi Forcole d'Oro e patrocinato da Provincia e Comune di Selvazzano Dentro. Grazie. 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 Grazie.